Buonasera a tutti quanti, non sono particolarmente in vena oggi, ma avevo promesso due video, quindi se non altro vi spiegherò perché il secondo video pubblicato oggi non sia proprio il video che un po' tutti si aspettavano, io compreso. Non sono proprio al massimo dello stato emotivo in questo momento, ma a letto e me ne sto anche un po' sbattendo del fatto che forse non dovrei essere a letto a quest'ora in questo momento. Allora, tanti di voi mi hanno scritto che non vedono l'ora di vedermi incazzato e smadonnare sulle nuove carte stampate e tutto quanto, e mi ha fatto veramente molto piacere perché avere dei feedback di qualsiasi tipo, sia positivi che negativi, cioè sono positivi è meglio, ma di qualsiasi tipo su quello che stai facendo per me è tanto. Magari qualcuno le prende seriamente, qualcuno le prende un po' più le leggere, per me è tanta cosa, perché sapere che sto facendo qualcosa che alla gente piace, e piace tanto da far scrivere il commento alla persona o il messaggio in chat e tutto quanto, devo dire, mi fa piacere. Oggi abbiamo un attimo superato quel limite, quel limite almeno quel limite che io riesco a gestire, perché ovviamente io tutto quello che riporto nei miei video è vero, e faccio il possibile per fornire le fonti, le origini da cui trago le notizie, le cose che racconto e tutto quanto. Ovviamente mi vedete fare facce smorfie, urle, grida, cose del genere, ma è una recita, nel senso sfrutto quella mia scarsa capacità recitativa barratoriale per dare un po' più di colore al personaggio, mi varrebbe da dire. Oggi non sarei in grado di farlo, ho visto a letto di quelle cose che... Sarà anche un po' la situazione, che in questo momento sono bloccato a casa, e quindi a me rimanere fermo è un po' come se mi stessero trapanando i denti o mettendogli spilli sulle cosce, mi fa impazzire, è una cosa che... Però... Ho visto cose, oggi ho letto cose e... Non riuscirei a fare finta, e ho paura che vomiterei molto più odio rispetto a quello che di solito fingo di vomitare. Quindi no. Me ne sto seduto, calmo, qui in un angolino della mia stanza, a rimuginare, a cercare di smaltire l'incarzzatura. Posso comunque dirvi che, nonostante tecnicamente fossimo a meno sette ore scarse, dall'inizio degli spoiler la Wizard è comunque riuscita a farsi scappare altre carte. Ma sono contento perché comunque hanno, come si dice, confermato il fatto che i leaker erano quelli, ovviamente erano quelli, e che ci aspettiamo un'altra espansione con un power level oltre il tetto, anche se avevano detto che dopo il drain il power level sarebbe sceso. Secondo me avevano una freccia che andava verso il basso, ma non si sono resi conto che era rovescia, quindi la freccia andava verso l'alto. Perché... ok. L'unica cosa che avevo intenzione di chiarificare subito, perché poi rischio di dimenticarmi, non sono famoso per la memoria, non sono famoso in generale, è che qualcuno su MTG Salvation, tra ieri sera e stamattina, ha dato una possibile spiegazione sulla possibile attendibilità del Teferi con l'abilità fase. Fase è quel genere di abilità che la Wizard stessa ha detto che non avrebbe mai più reintrodotto perché è troppo forte, ma in realtà l'aveva detto anche per Storm e comunque in Modern Horizon c'erano carte con Storm. Ma in realtà il Teferi con fase che sfasa fuori una creatura potrebbe essere la Baia Box. In War of the Spark c'era Tezeret con affinità, ma affinità in War of the Spark non c'era. Potrebbe essere un'ottima spiegazione. Sono usciti un sacco di leak delle mitiche, sono usciti anche i primi spoiler, i spoiler ho cercato di dividerli un pochettino tra post su Facebook e post qui su YouTube. Adesso che ho la monetizzazione, che ho superato i mille iscritti e tutto quanto, YouTube mi permette di fare anche post, piccoli post, immagini, mini video, eccetera, eccetera, magari anteprime di quelli che saranno i miei video qui su YouTube, quindi bene o male controllate la mia pagina di Facebook o comunque il mio canale qui, le vedrete. Sono tipo tre carte messe in croce, una devono ancora finirla perché hanno spostato l'uscita degli spoiler. Qualche altra cosa... In generale sono non contento, in realtà sono neutro riguardo quelle cose che hanno spoilerato. Il planeswalker bianco è un po' troppo forte, ma domani lo vedremo. In un modo o nell'altro lo vedremo. Mi piace anche la nuova Chandra, ma anche quella la vedremo domani. Se avete qualche richiesta particolare o qualche punto specifico su cui volete che io mi indirizzate i prossimi video, devo ancora iniziare a farli perché sto aspettando le carte che escano, quindi per il momento penso che sia tutto e se avete appunto richieste fatemele sapere e io torno a rimuginare.